Buongiorno da FT Online, tentativo di rimbalzo questa mattina per la borsa, il Futsimib in avvio ha toccato un massimo intorno ai 26.200 punti, poi è tornato sui propri passi riportandosi in area 26.070, c'è da dire che la flessione per il momento si mantiene al di sopra del massimo di giugno, quindi il tentativo di rimbalzo che abbiamo visto dai minimi di venerdì, che peraltro sono una bella candela di tipo Hammer, quindi una candela potenzialmente rialzista, questo tentativo di rimbalzo è ancora valido, siamo un po' presi tra due fuochi, i massimi di giugno come supporto, il lato alto del gap ribassista di giovedì come resistenza, il superamento al rialzo del secondo o al ribasso del primo saranno un segnale forte in favore di un movimento più direzionato, sotto i supporti target a 25.550 circa e sopra la resistenza, che praticamente coincide con i massimi di oggi, target a 26.500 circa. Una situazione abbastanza simile a quella del DAX, vedete dopo un'apertura a rialzo che ha permesso una ricopertura completa del gap ribassista giovedì, i prezzi sono tornati indietro, però si sono mantenuti al di sopra del massimo di giugno, quindi anche qui siamo compresi tra questa fascia 15.800-16.000, la rottura in un senso o nell'altro di questa fascia ci dovrebbe dare indicazioni su quelle che sono le prospettive di movimento almeno per i 250 punti successivi. Se andiamo a guardare come si sta comportando l'euro dollaro che è ritornato al di sopra di 1.17, potremmo dire che la situazione di allontanamento dal rischio, quindi di risk off da parte dei mercati si sta un po' allentando e questo dovrebbe essere favorevole a un tentativo di ripresa delle borse, però per il momento il rimbalzo del dollaro è molto limitato, sarà importante vedere se oggi anche con la borsa a usa aperta si riuscirà a mantenere di sopra di 1.17 o meno. Altri segnali potenzialmente favorevoli ad un ritorno dell'appetito per il rischio sui mercati finanziari è dato dall'andamento del Bitcoin, abbiamo visto che settimana scorsa è riuscito alla fine a lasciarsi alle spalle questa importante resistenza dei 47.500 punti che è il 50% retracement del ribasso dai massimi di aprile e adesso viaggia con un target che è quello di area 52.000-52.500, quindi sul Bitcoin è ripreso un movimento rialzista, è stato completato questo ampio doppio minimo che si è venuto a creare tra maggio e luglio e adesso c'è ancora spazio di rialzo, non c'è una correlazione diretta effettivamente tra borsa e Bitcoin, però diciamo che tendenzialmente quando sale l'appetito per il rischio sia la borsa che il Bitcoin tendono a performare bene. C'è un ritorno di forza anche da parte del greggio, per il momento questo è l'etf sul petrolio con codice CRUD, ha un andamento ovviamente che rispecchia quello del greggio e vedete c'è nella seduta di oggi un tentativo di rimbalzo, settimana scorsa con i minimi di venerdì è stato toccato il 68% retracement del rialzo dai minimi di marzo, quindi un supporto importante ovviamente prima di parlare di una ripresa del rialzo credibile bisognerà prima attendere la rottura di area 25, poi il superamento del lato alto di questo canale ribassista che ho disegnato, con la rottura del lato alto di quel canale in area 26 le oscillazioni dal massimo di inizio luglio si dimostrerebbero un flag, quindi una bella figura di continuazione, si potrebbe ipotizzare un rialzo esteso, però c'è ancora molta strada da fare prima che si realizzi uno scenario di questo tipo, attenzione ovviamente sotto 23,50 perché tutta l'ipotesi rialzista verrebbe negata e ci sarebbe invece il rischio di tornare verso i minimi almeno di maggio. Oggi ci occupiamo di un po' di temi fuori dalle nostre corde abituali, alcuni sono titoli che mi hanno chiesto gli ascoltatori, altri, in particolare i primi due che sono Baidu e Tencent sono titoli che sono stati sotto i riflettori negli ultimi giorni per quello che riguarda il mercato cinese, in particolare la piazza di Hong Kong, titoli che hanno come riferimento il settore tecnologico e vedete sono andati incontro ad una fase negativa molto consistente, ci sono forse dei segnali di rallentamento di questa discesa, questo è il 78,6% di retracement per quello che riguarda Baidu e vedete su questi livelli di rifacciamento i prezzi negli ultimi giorni hanno disegnato un paio di candele che potrebbero fare pensare a un tentativo di rimbalzo, c'è quindi un tweezer bottom potenziale, se i prezzi riusciranno a salire di sopra di area 145 ci sarà la possibilità di assistere a un tentativo di ripresa, la discesa è stata molto ampia, ampio in termini relativi potrebbe essere anche il rimbalzo. Stesso discorso si può fare anche per Tencent che come vedete anche lui ha ritracciato una porzione molto consistente del rialzo che si era visto da questo minimo, che era il minimo di agosto del 2019, anche qui più o meno siamo arrivati sul 78,6% di ritracciamento con il minimo di settimana scorsa e anche in questo caso quindi un tentativo di rimbalzo è possibile fino a che saremo di sopra di area 410 Hong Kong Dollars, sarà possibile una ripresa, ci sono diversi gap che i prezzi sono lasciati alle spalle nel corso del ribasso e quindi l'azione del rimbalzo potrebbe essere favorita dalla presenza di questi vuoti. Direi che sono titoli che appunto avendo subito tanto in passato e avendo tanto spazio per rimbalzare potrebbero essere interessanti in un'ottica aggressiva da considerare in questo momento. C'è un titolo del mercato europeo Sanofi o Sanofi che sta cercando di riprendersi, oggi in realtà è in flessione ma settimana scorsa ha inviato il segnale di rottura del massimo di giugno, quindi un segnale di forza abbastanza interessante, c'è spazio per un'ulteriore fase di crescita perché avevamo visto la creazione di questa fase laterale negli ultimi mesi, la rottura e rialzo di questo trading range che ha una moderata inclinazione positiva, vedete questa è la nostra fascia di oscillazione, la rottura e rialzo di questa fascia ci propone un obiettivo che potrebbe essere posizionato in area 95,50, quindi praticamente coincidente con i massimi dello scorso anno. È importante che le quotazioni non scendano di sotto di 89,50 per mantenere un'intonazione positiva. Due titoli del mercato italiano, Elen che oggi è in forte rialzo, 12,86 Euro poco fa la quotazione, il massimo del 4 agosto era a 13,36 Euro, quindi siamo arrivati molto vicini a quei livelli, nel breve si è disegnato e poi oggi è stato completato questo piccolo doppio minimo, il doppio minimo è stato completato con la rottura di 12,60 Euro, la sua base era a 12,06 Euro, quindi circa mezzo Euro, vuole dire un primo target intorno ai 13,10 Euro sopra quei livelli, poi il target si sposterebbe a 13,36 Euro, c'è sicuramente spazio per salire ancora, vi ricordo che il titolo è sui massimi storici, quindi non ci sono riferimenti grafici passati ai quali fare affidamento per avere un'ipotesi di target, notiamo che c'è stata una prima fase ascendente lo scorso anno dai minimi di marzo, seguita da una lunga fase laterale, quindi questa prima fase crescente potrebbe essere stata l'onda 1 di un impulso, di solito l'onda 3 si colloca in una proiezione o del 161,8% o del 261,8%, quindi questo potrebbe essere stato il punto d'arrivo di onda 3, potremmo essere adesso in un'onda 5 che ha un target proprio sui massimi di inizio agosto, quindi quello potrebbe essere un livello di prezzo che il titolo avrebbe la possibilità di raggiungere nuovamente, tra 13,35 e 13,50 sarei molto prudente perché potrebbe avviarsi una nuova fase correttiva estesa, sopra quei livelli invece target come vedete intorno a 15,20 che sarebbe l'estensione dell'onda 5. Per quello che riguarda seri, siamo con i prezzi che ancora devono confermare l'intonazione positiva che abbiamo visto dal minimo del 20 luglio, questo perché se andiamo a calcolare i ritracciamenti del ribasso precedente, vedete siamo attorno al 61,8%, praticamente venerdì i prezzi hanno chiuso proprio sul 61,8% che è intorno agli 8 Euro, in questo momento siamo a 8,05, a questo punto aspetterei una rottura in chiusura di seduta, almeno di area 8,40 per poter puntare al rialzo. Oltre a quei livelli ci sarebbe la possibilità di considerare questa fase che si è disegnata negli ultimi mesi di circa 2 Euro d'ampiezza come un'unità di misura sulla quale calcolare il target successivo, quindi sopra 8,40, 8,50 target fino ai 10,50 Euro circa. Guardiamo infine Netflix che è in una fase potenziale di accumulo, quindi potenzialmente interessante, vedete c'è questa lunga fase laterale che ormai caratterizza l'andamento del titolo da circa un anno, questa è la base del nostro trading range e questo è il suo limite superiore, attualmente i prezzi sono nella metà alta della nostra fascia, quindi questa è la linea di baricentro del trading range, hanno disegnato questo piccolo doppio minimo o addirittura triplo minimo attorno alla linea mediana della fascia, il target della figura però è già stato raggiunto, direi che fino a che siamo di sotto i 5,75 sarei abbastanza prudente nelle strategie d'acquisto, per arrivare a 5,75 potrebbe essere sufficiente come segnale la rottura in chiusura di seduta di area 5,50 e 5,51, quindi sopra 5,50 in chiusura di seduta una ventina di dollari di spazio prima di trovare una nuova resistenza importante. vi ringrazio per l'attenzione, vi auguro un buon inizio di settimana e vi do l'appuntamento a domani con il nostro consueto commento giornaliero.